E' arrivata la fiera a Bari e tu non hai il biglietto! La donna della tua vita ti aspetta dentro, ma tu non sai come entrare! Antenna Sud, alla ricetta che fa per te! Benvenuti a questa ennessima puntata di Preparare una ricetta per entrare a scrocco in fiera! Oggi, cari amici, impareremo a realizzare l'autocicletta! Prepararla! E' semplicissima! Sulla mia sinistra adesso vedrete l'occorrente! Una autovettura più una bicicletta! E adesso andiamo a vedere come preparare questa meravigliosa ricetta! Avete scoperto che il vostro comune permette l'ingresso gratuito ai ciclisti? Ma non avete alcuna intenzione di pedalare? Bene! Prendete una vostra automobile! Inserite con cura una bicicletta nel bagagliaio! Pronti? Bene! Allora arrivate comodamente in fiera e parcheggiate! La ricetta è quasi pronta! Sfornate la bicicletta dall'automobile! Colorate il tutto con un abbigliamento da ciclista! Aggiungete un po' d'acqua e un pizzico di stanchezza! Più stanchezza? Ok, ora va bene! Ora è tutto pronto! Salite in cella e... Benvenuti alla fiera del Levante! E allora la città è Steph... Ello Così che si cantasse... Niente cosa? Grazie a tutti